Un'altra buona giornata per Etics, un'altra vina con Fernando, un'altra giornata in blu jersey. Come ti senti? Sì, sono davvero molto felice che posso mantenere il jersey leader, ma sono davvero molto felice che potessi vincere oggi un'altra stagione dopo tutto il lavoro difficile che il team ha fatto oggi. È stato un giorno difficile per noi, abbiamo fatto un'altra stagione, ma stagione di chilometrii, abbiamo fatto un'altra stagione, ma il Fernando finislo l'altro. Il brano è stato in 2K, hai fii che non puoi il brano? È, ovviamente, è stato molto fermo, ma penso che nelle ultime chilometri c'è sempre passita molto rapidamente, ma che abbiamo un'acchiazionato abbiamo un'acchiazionato possiamo essere davvero felici in maniera? in maniera proviamo ancora